L'annuncio è stato dato dalla figlia di Palombelli attraverso un commovente messaggio di addio sui social media. Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti che hanno scosso le fondamenta, chiediamo il vostro sostegno. Un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Emanuela Micheli, la figlia di Carlo Palombelli, ha intrapreso il suo percorso formativo all'Istituto Santa Giuliana Falconieri di Roma, dove ha conseguito la laurea in Antropologia Culturale. La sua brillante carriera ha avuto inizio presso la RAI, nello specifico, a RAI Radio 2, dove si è unita alla redazione del programma Sala F nel lontano 1979. Successivamente, nel 1980, ha contribuito alla rivista settimanale L'Europeo, e nel 1984 è diventata giornalista parlamentare. Dal 1984 al 1987, Emanuela ha anche collaborato con Il Quotidiano, Il Giornale, sotto la guida di Indro Montanelli. Ma l'evento che ci ha colpiti nel profondo è avvenuto nel suo percorso presso Mediaset, dove lavorava per il celebre programma Forum. È stato proprio lì che è stata costretta a dire un commosso addio a una figura iconica della televisione italiana, addio, ti saremo sempre grati. La tua bellezza vivrà per sempre dentro di noi. Invitiamo tutti voi a condividere le vostre condoglianze e a offrire una preghiera per questo grande giudice padre fondatore del programma. Come riportato sul sito TV, all'età di 85 anni, anche Italo Ormani ci ha lasciati. Quest'uomo, divenuto noto attraverso il programma Forum, inizialmente su Canale 5 e successivamente su Rete 4, è ora considerato uno dei fondatori di questo programma. La conduttrice attuale di Forum è rimasta profondamente colpita alla notizia della sua triste dipartita.